Siamo qui oggi per parlare e rappresentare il progetto DESALP, Design Thinking per le imprese. È un progetto europeo nel quale Social Fair è fatto da Observer. Ci sono tanti partner, tra i quali la città metropolitana, che in effetti è coinvolta in prima istanza. Cosa abbiamo visto durante questo progetto? Che le imprese sono interessate a sviluppare innovazioni collaborative, modalità collaborative di fare innovazione, attraverso anche la metodologia del Design Thinking. Tutto questo quindi ha un suo perché all'interno del progetto europeo DESALP, ma man mano durante il percorso ha anche sollecitato l'interesse di altri stakeholder che man mano si sono affacciati a questa potenzialità. La città metropolitana in effetti sta considerando di utilizzare il Design Thinking per propria formazione interna, quindi per attivare internamente dei gruppi collaborativi sull'innovazione. non ne voglio, non ne posso parlare io, però diciamo che c'è un buon flusso di interesse per mettere a capitale ciò che è uscito già come un'evidenza importante e positiva dal progetto stesso.